Salatana Sonas, Van de Putt col destro morbido, tutto solo, tutto solo, Martinelli il capitano per il 2-0 al primo centro stagionale, il più pesante della stagione del Catanzaro che esulta sotto i suoi tifosi e vola sul 2-0 a Pescara. Salatana Sonas, Van de Putt. Salatana Sonas ha una squadra fantastica, avanti sul 2-0, da rivedere qualcosa nelle marcature da questa punizione con l'ennesimo assist di Van de Putt e questo è il nono, nono assist per Van de Putt, due assist quest'oggi per l'esterno ancora una volta straordinariamente dominante dal punto di vista tecnico in Serie C. Vicinissimo anche quest'anno a diventare per il terzo anno consecutivo in cui gioca in questa categoria il miglior assistman di tutta la Serie C.